Al di là degli appelli io volevo soltanto dire una cosa, noi ci prepariamo ad affrontare un momento critico del paese nel quale abbiamo bisogno di un governo con tutta la capacità di poter approvare i provvedimenti emergenziali per sostenere l'emergenza economica. Se i partiti nei prossimi giorni, come hanno fatto oggi, continueranno ad esibire bandierine o veti, io non credo che avremo un governo la prossima settimana. Quindi è molto importante che ci sia un atto di maturità e di responsabilità delle forze politiche, altrimenti si scioglieranno le camere e invece di fare i provvedimenti per famiglie e imprese nell'autunno caldo faremo la campagna elettorale, va bene uguale. Grazie Ministro. La campagna elettorale nell'autunno caldo è... Andiamo da Luca.